Amici di Android Blog, siamo allo stand Lenovo del Mobile World Congress 2014 in compagnia del Lenovo Vibe Z, terminale che attualmente non è previsto per il mercato europeo ma che forse arriverà in un prossimo futuro. Questo smartphone è la punta di diamante di Lenovo in quanto le caratteristiche tecniche sono davvero importanti. Si monta infatti un processore Qualcomm Snapdragon 800 da 2.2 GHz, è dotato di modulo LTE e presenta un display da ben 5.5 pollici, full HD e IPS. Ma andiamo subito a vedere nel dettaglio quelle che sono le caratteristiche hardware del prodotto a partire dallo speaker frontale che integra il LED di stato dietro la griglia, la camera frontale da ben 5 megapixel sotto abbiamo i tasti sulla scocca quindi non vanno a mangiare spazio dal display sul lato sinistro abbiamo il bilanciere del volume, sul lato destro abbiamo lo slot per la sim card e attualmente non abbiamo informazioni sul taglio di memoria quindi possiamo presupporre che siano i classici da 16 o eventualmente 32 GB. Per proseguire la caratteristica hardware lo giriamo, dietro abbiamo questa texture leggermente olografica con un effetto glitter, in fondo possiamo intravedere la griglia dello speaker di sistema e la camera principale da 13 megapixel con un doppio flash LED. Andiamo a vedere la parte superiore che presenta il foro per il jack da 3,5 per le cuffie e il tasto di tensione e l'impedimento blocco e sblocco. Andiamo quindi a sbloccare e a vedere un attimino l'interfaccia di Lenovo che è priva di drawer in quanto tutte le applicazioni sono nella home, ma andiamo a cercare qualche piccola informazione in più sullo storage di cui parlavamo prima. Ecco, questo modello ha un total space di circa 14 GB, quindi possiamo ipotizzare che abbia un 16 GB di memoria interna integrata. Già che siamo nel menu delle applicazioni andiamo a vedere con quale versione Android è equipaggiato questo smartphone, no, ho sbagliato il menu, andiamo a vedere su version information, ecco, la versione di Android è la 4.3 Jelly Bean. L'interfaccia sembra decisamente fluida in ogni suo aspetto e il display è davvero piacevole sia a livello cromatico che a livello di luminosità. Un'ultima piccola caratteristica sono l'implementazione delle cartelle che si aprono a tutto schermo. Facciamo un'ultima carellata, ad esempio, per vedere il software della fotocamera come è stato implementato nonostante le luci dello stand non ci aiutino, comunque ci sembra davvero veloce lo scatto e le impostazioni sono davvero tante, divisi addirittura in tre menu. E diciamo che per questa preview da Lenovo per il Vibe Z è tutto, un saluto da Alessio per Androidblog.it